Ma, vede, forse, non lo so, era un po' perché subito, secondo me, doveva finire la guerra. E poi dopo, quando sei dentro a una cosa, diventa talmente una cosa, non so neanche come dire, per me era diventato un obbligo, una cosa che dovevo fare, dovevo fare come magari fare il lavoro in casa, era anche quello un lavoro che io dovevo fare. E si faceva con talmente tanta volontà, non ti pesava tutti quei chilometri da Via Emilia, che partivo da San Pietro al mattino, arrivavo secchio nella sera, con i piedi che mi sanguinavano, mi facciano fare i scarponcini inglesi, mi facevano, mi davano i scarponi, mi mandavano dal calzolaio, e poi vestavano questi scarponi inglesi e mi facevano le scarpe adatte per il mio piede. Però erano, non camminavo tutto il giorno dentro queste case, io arrivavo su e dicevo, ma che se io non ne posso più, mi fanno male i piedi, che chissà. Dai, va giù, perché io quando arrivavo su, che avevo consegnato, se andavo bene, mi diceva, prendi le forbici, avrai anche le unghie lunghe, va a fare un bagno ai piedi, poi dopo vedrai che stai meglio. E andavo in una casa dove c'erano due signori anziani, quello io stavo bene quando andavo là, perché dormivo in un letto, e poi mi riposavo, almeno il giorno dopo mi facevano due volte la polenta, a mezzogiorno e alla sera, uno di castagna e uno di frume, di gran turco, però stavo bene, stavo bene, mi riposavo, veramente, poi ero lì. Veniva anche qualche altra ragazza, ma in particolare lui voleva sempre che andavo là, io non stavo mai, invece mia sorella Poretta dormiva sempre nelle capanne, nelle stalle dove capitava. Subito sì, subito dicevo io, ma non so perché devo fare io questo lavoro, subito, dicevo così, perché io devo farlo. Ma vedevo che c'era bisogno di fare queste cose, secondo me, era un dovere di fare qualche cosa. Mio padre, ad esempio, quando eravamo piccoli, anche piccoli, quando c'era un contadino che faceva, facevano i fieni, facevano raccogliere il grano, così, mio papà diceva andate ad aiutare quel signore, vai che se viene a piovere magari dai che prenda su questo raccolto, e noi tutti i bambini andavamo ad aiutare così, e secondo me questo dovere c'è sempre rimasto. Ciao!